Benissimo, tappetino, giù a terra, ragazzi che dire, buon allenamento a tutti, si parte con uno scissolo verticale, 3, 2, 1, scissolo verticale, dai, l'addome oggi lo frulli eh, e lo frulli per bene, dai dai, frullalo questo addome, ti prendo il timer per se ti riesco a dare una mano, dai, mani appoggiate, da tappetino, frulla, con queste gambe, su e giù, su e giù, vai, vai, 10 secondi, dai che ci sei, i risultati si vedono, 1, pausa, gambe mantenute in alto, ok, Eole Gold, mantieni le gambe in alto, mantieni, mantieni, io non vedo nulla per il colsore in faccia, ma ti sento, mi sento che già stai imprecando, già mi stai maledicendo, il prossimo, ma fra 10 secondi è lì, quindi ci andiamo a toccare i talloni, con i piedi appoggiati a terra, 3, 2, 1, appoggia i piedi a terra, dai, vatti a toccare i talloni, con questo un po' recuperi, un po', dai dai, ragazzi sto vedendo una marea di foto dell'addominale, mia sorella stessa mi ha detto, cavoli, con questi circuiti degli addome, l'addome è molto più evidente, e il vostro? Ho visto delle foto, davvero super, bravi, 1, scisso l'orizzontale, dai, so che è faticoso, ma devi essere motivato, dall'addome che sta venendo fuori, si soffre, ma si soffre assieme, e poi l'addome ce l'avremo tutti, dai che condividiamo l'addome, fai questo scisso l'orizzontale, su, 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 manca solo 8 secondi, non mollarmi, non mollarmi, ho messo in pausa, va bene, riparti, 5, dai, 3, 2, 1, ora, reverse crunch, portando su le gambe, vai, ho, ho, se non riesci a portare sulle gambe, fai solo un reverse crunch, devi lavorare, non devi impazzire, lo spacca addome, l'addome te lo fai impazzire, ma ricordati che ci sono 3 giri, ancora, 5 secondi, 3, 2, 1, appoggi le gambe, sit up, punch, dai che oggi ci sfodiamo, dateli questi pugni, dateli, pop, da una parte o dall'altra, si tappa il punch, dai, punch, come on, scaricatemi, c'è la mia faccia di quando vi dico, oggi spacco addome agli avanti, vi voglio sentire questi pugni, li insalto tutti, dai, 3, 2, 1, pausa, questo era il primo, adesso, si parte col secondo, il secondo, è un po' più mortale del primo, perché si fa in plank, voi direte, è semplice, aspetta, aspetta a parlare, aspetta di vedere il primo, te lo dico intanto, il primo, è quello, dai la cera, togli la cera, dai, in plank, sollevato, do la cera, tolgo la cera, dai, che questo ti fa morire, do la cera, tolgo la cera, mano avanti, e indietro, la posizione di plank, abbiamo fatto due giorni fa, vai, questo è nostro, l'addome lavora tutto, avanti e indietro, se non ce la fai, lo fai in maniera un pochino più a scatti, ma lo fai comunque, ok, 2, 1, ora, spider plank, ti metti giù e vieni avanti, la posizione di spider man, da plank, porti il ginocchio verso il gomico, dai, 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 che qua lavora bene, qua l'addome lo ammazzi, ma è sabato, ieri sera hai bevuto sicuro, o del vino, o del gin tonic, o del vodka lemon, lo devi consumare, tutti i zuccheri sono, dai, ora, plank classico, per far lavorare di più, l'addome in plank classico, tieni le chiappe, belle strette, i talloni, i miti, vai, si sente ragazzi l'addome, comincia a sentire fatica, il prossimo esercizio, te lo dico alla fine, se no mi ammazzi, 4, 3, 2, 1, appoggio un secondo le gambe, ti metti in plank sollevato e mi fai un'altra volta, la do la cera, la do la cera, dai, su, porta avanti questa mano, lo voglio frullato oggi l'addome, frullato, facciamo uno smoothies, uno smoothies di addome, dai, 8 secondi, frullalo bene, dai, 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 su, 3, 2, 1, adesso, plank, me lo fai o classico, oppure di manico se ne hai ancora un po', se ne hai, fammelo dinamico, dai, dai, chiedo un po', apro un po' la finestra perché sto morendo di caldo, 14, dai, 12, 10, dai, 7, 4, ci sei, il prossimo, sai qual è, ti riposo un secondo, su e giù, commando, dai che dopo hai la pausa, su, dopo hai la pausa, 20 secondi ancora, poi 30 secondi per respirare, su, spacchiamoci lo spaddone, dai, 10 secondi, 5, 3, dai che ci sei, non mollare, pausa, qua ti ho ucciso, eh, mi fischiavano le orecchie, credo di averti ucciso, dai ragazzi, su, manca l'ultimo circuito da 3 minuti di addome, la vedi la tarta lunga? Adesso che lavori, qua, si vede ancora di più, guardatela per darti la carica, guardati l'addome per darti la carica, ora, in crunch, fate un crunch, o con le gambe su, o con le gambe a 90, vai, 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 dai, che ci siamo, l'addome, brucia, più di una padella, più di una teglia, appena tolto dal forno dai uno cambio ti metti sul lato e mi fai il side crunch quello per gli obliqui girate un po' sul lato che è in su ok? dai dai che ce l'hai fammi sto side crunch devi sentire la zona obliqua che tira quella che vorrei vedere quest'estate dai non mollare adesso uno cambio crunch classico con le gambe su con le gambe a terra come vuoi cambiamo un po' la difficoltà io lo faccio con le gambe a terra quindi se io lo faccio con le gambe a terra consiglio anche a te di farlo così dai 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 ci siamo è l'ultimo giro questo uno side crunch sinistro nel mezzo di quattro di mi vedi ne mancano ancora tre poi lo spaccardome sarà un ricordo piacevole ricordo mentre lo fai non è piacevole appena hai finito come tutte le cose che devi sudare dopo è un piacere è un ricordo bellissimo dai cinza secondi tre due uno cambio adesso v sit hold ti metti a v tieni le braccia aperte tieni le gambe ben dritte io faccio fatica in questo ok e mantieni la posizione se non ce la fai tutti i trenta secondi appoggi un attimo le gambe poi dopo torni su dai dieci secondi poi andate a strizzare i panni in che senso il crunch inverso in rotazione bene è l'ultimo ragazzi crunch inverso voglio un brinqui quindi vado su una volta da una parte e una volta dall'altra strizza bene è l'ultimo l'ultimo non si molla dai continua continua fino in fondo odiami dopo mi amerai dai ci sei ci sei ci sei ci sei palma palma è finito è sabato mattina su anche stasera potete bere vi augurizzo adesso così così vi dico il grosso del 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 training del training di oggi non è questo e non è neanche il circuito squat in 3 2 1 vai 2 2 1 2 3 2 3 5 6 7 7 8 8 9 9 9 8 9 10 11 11 12 15 15 15 7 12 12 15 6 13 13 20 15 21 21 22 Grazie a tutti. 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 20 piccoli parti da un minuto, per cui in queste piccole parti da un minuto ci sono altre tre piccole parti. All'inizio è un esercizio muscolare. Si parte col push-up. 30 secondi. Push-up. Io vi do la via e vi do la stop. 2, 1. Vai in push-up. Su. Se vuoi, se vuoi, il push-up lo fai con le ginocchia a terra, come ti abbiamo insegnato l'altro giorno a farmi. Ok? se no, se vuoi, se vuoi, vai con le ginocchia a terra, come ti va, come ti va, come ti va, come ti va, come ti va. 20 piccoli? quando ti do lo stop mi vai a fare 4 burpees ok ora 4 burpees ricordati che non devi morire per cui vai al tuo ritmo se per fare 4 burpees ci metti tutti i 20 secondi non è un problema io ho già fatto e vado in skip quando tu li hai fatti mi raggiunge a fare skip ok non esagerare con lo skip come velocità se no poi non riesci ad arrivare alla fine dai dai skip skip il prossimo fra 5 secondi affondi con la gamba destra io lo faccio posteriore vai affondo affondo posteriore gamba destra ci sei buona notizia i bambi stanno calando adesso sono 3 vai ancora a fondo ci sei quasi ora 3 burpees dai 1 2 3 skip braccia alte 6 burpees non riesci a farli incompleti fai i mezzi burpees ok solo con le gambe tranquillo tranquillo questo circuito ti farà sudare parecchio ve lo dico ancora 10 secondi comunque tu sia 6 5 4 3 2 1 1 a terra a terra a fare i bambi per i principali 20 secondi vai al tuo ritmo vai al tuo ritmo non ti preoccupare so che stai faticato ma devi andare al tuo ritmo adesso vai solo due parti solo due ok ora due parti vai 1 2 e ancora skip adesso non mettere sulle braccia so che si stanco facciamo uno skip classico ok lo fa più easy così il cuore va su lo sappiamo è quello che vogliamo con l'hit hai 20 minuti di lavoro tranquillo arriviamo assieme alla fine ognuno a suo ritmo nessuno ti corre dietro il prossimo t-notation na terra in posizione flanta ti metti giù vai a un ritmo blando t-notation ok non devi forzare il sudore arriva lo stesso è lungo il lavoro che facciamo il tuo sudore arriva buona notizia un solo practice vai uno solo dai un practice ora skip skip dai 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 skip non ti preoccupare con questo qua dovresti essere al pari con me perché è un practice più o meno e li facciamo tutti nello stesso tempo dai dai skip ancora per 12 secondi poi ricomincia il giro quindi di nuovo push up dai 5 4 3 2 1 20 secondi di push up come prima ginocchio a terra ginocchio su come vuoi fai quanti vuoi quando ti do il cambio cambi basta che non molli tu vai al tuo ritmo non guardare nessuno ora mi fai 5 batti dai vai al tuo ritmo non ti preoccupare quando hai finito i 5 batti devi fare il jump squat se non riesci a fare il jump squat mi fai lo squat classico se riesci fai il jump squat dai mancano 20 secondi il cuore sale sale tanto con jump squat dai ancora 6 secondi 5 dai 3 2 1 a terra superman dai respira non ti corre dietro nessuno vai in piano dai 7 5 dai 3 2 1 4 parti dai ci sei io ne ho fatti 2 io ne ho fatti 3 io ne ho fatti 4 adesso jump squat se non ce la fai fai lo squat devi riparare alla fine ti devi regolare in base a quante energie hai in corpo dai che ci sei 12 secondi oh oh dai 5 4 3 2 1 a terra davanti no avviamo a fondo in questo caso sinistro dai oh 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 dai te la fai 3 2 1 adesso hai sempre già un squat ah no hai battuto 3 ti confondo 1 2 3 ora ricordati un attimo facciamo uno squat se no muori classico dai 20 secondi scotta recuperi un secondo è dura lo so che è dura dai dai 10 secondi 7 ognuno ha il suo ritmo non bollare seguimi ora a terra 10 vai a tuo ritmo vai piano devi arrivare in fondo e sei a buon punto dopo hai solo due parties di nuovo due parties non sono niente ok ce la fai dai due parties vai 2 1 2 adesso se vuoi fai lo squat classico se no fai jump ok quindi vai giù giù quello che vuoi te a me non cambia mi va bene tutto oggi sono buono dai dai seguimi seguimi prossimo t-rotation 4 3 dai che ci sei vedi giù t-rotation da una parte dall'altra dai andiamo andiamo siamo al terzo giro dai push up andate giù push up 20 secondi vi è andata bene senza connessione vi siete riposati dai push up dopo il push up si riparte con 5 parties ok 5 parties vai al tuo ritmo non ti corre dietro nessuno dai 2 vanno più piano finissimi da me 3 dai ancora 4 5 ora a fondo laterale tutto da un lato dai se vuoi come torni su fai il salto ok a fondo laterale jump a fondo laterale jump dai io faccio il lato destro prima ok cambio superman superman vai siamo al terzo giro ormai è finita 10 secondi di superman 10 secondi come on 3 2 1 4 parti dai 1 2 3 4 a fondo laterale dall'altro lato vai oh se vuoi sempre col jump vai vai ancora 5 secondi vai vai 1 adesso a fondo torniamo al destro sempre posteriore ok dai vai 8 secondi vai che ci sei 5 vai dopo hai 3 parti 3 parti dai 1 guarda come facciamo bene 2 3 adesso si torna a destra a fondo laterale e jump dai a fondo laterale jump sei carico? ti senti un po' sudato? ti fai un po' schifo? io parecchio dai 10 secondi 9 dai 7 5 vai ora 20 secondi di hit su ci siamo dai dopo questi due parti vai tieni il ritmo 2 1 2 parti dai 1 2 dai a fondo laterale ora ne hai a manetta quindi mi fai anche il saltello dai ti sei riposato dai che ci sei non mollare non mollare ancora 14 secondi dai dai 10 8 ci sei 5 vai non mollare 2 1 ora di rotation dai da una parte dall'altra su ci sei ci sei 5 4 3 2 1 adesso mi cambi e mi fai il runner lunge vai oh voglio l'ho fatta apposta per far andare su un pochino il cuore perché il cuore era sceso troppo nella pausa quindi ci facciamo 40 secondi di runner dai dai dopo si riparte con il prima push up e 5 barbies dai 6 5 3 2 1 20 secondi di push up dai 10 6 hai recuperato un casino ci sei 5 3 2 1 adesso 5 barbies le energie le tutte per andare alla retta dai vai non mollare mai non mollare mai dai ora jumping jack su jumping jack vai fino alla fine noi lo molliamo è una tribù di gladiatori dai ci sei ci sei su super bene te lo ricordi braccia avanti indietro dai continua non aver paura vai avanti dopo questo hai 4 barbies è il circuito finale dai ora 4 barbies vai continua 2 3 e 4 jumping jack da qua vai avanti jumping jack dai che riprendi a sudare è come non aver mai volato su su ci sei ci sei ancora 12 secondi dai ragazzi uoli 6 4 dai che ne hai 2 1 adesso a fondo stiamo a sinistro mi fate a quello che avete fatto prima mi fate l'altro a fondo dai dopo 3 barbies ora 3 barbies a terra dai 1 2 l'ultimo 3 jumping jack vai avanti hai 30 secondi per mandare sul cuore se io parlo ce la faccio tu ce la fai lo stesso perché tu non stai parlando tu recuperi di più dai 12 secondi dopo a terra facciamo i dips dai 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 5 4 3 2 1 dips dai che ci sei sei quasi alla fine ci sei devi ringraziare la connessione si ha salvato questo circuito fatto tutto di fila ti avrebbe veramente ucciso dai dai 2 barbie sola 1 2 jumping jack fino alla fine dai sei quasi alla fine dopo hai solamente il tirotation ancora ancora saluta tutti con le braccia così apri e chiudi il salutone dai che ci sei 13 dai 10 ci sei 7 5 dai 3 2 1 hai un solo bumping dopo tirotation festeggia hai un solo bumping ancora da fare tutti i riodi ancora 8 secondi poi un bumping poi l'ultimo jumping jack finito bumping dai che è finito vai su bumping vai su jumping jack dai finì in fondo finì in fondo non mollare non si molla mai questa è l'unica regola che abbiamo in queste lezioni per modo di dire lezioni questi allenamenti a casa ok in questi allenamenti a casa c'è solo una regola non si molla non si molla sei secondi dai 4 3 2 1 pausa oggi però lo sforzo di mettervelo oggi stesso su youtube a breve tra circa mezz'ora uscirà quello di ieri stasera oggi pomeriggio anzi appena il video riuscirà a essere esportato ve lo metto su youtube ok così non recuperate visto che ne abbiamo perché ci siamo riposati facciamo un tabata finale molto easy sono due esercizi shoulder tap ok e mountain climbers questo è molto easy dai ragazzi su shoulder tap e mountain climbers dai 4 2 1 shoulder tap dai dai ne hai ancora lo so che ne hai ancora hai fatto pausa dai ci sei questo non è praticoso ancora 1 pausa ora mountain climbers parta lo super cuore 3 2 1 mountain climbers dai vai vai continua continua ci sei ci sei ci sei ci sei come on come on one, go mountain climbers ci sei quasi tre, due, uno mountain climbers scala, scala scala bene come, come, marcia vai di più vai quattro, tre, due, uno pausa dopo è la shoulder tap siamo a metà dai via dai questo è il quinto ci sei lo so che ci sei e ancora vai che ne hai pausa mountain climbers ultimi tre giri da 20 secondi poi pausa poi fine via 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 ci sei ci sei ci sei ci sei quattro solo tre due uno pausa ultimo giro ultimo dannato giro shoulder tap tre due uno dai vai ci sei ci sei lo sento che ci sei lo sento che mi segui dai non mollare continua tre due uno pausa hai l'ultimo mountain climbers l'ultimo sforzo dai ragazzi ci siamo siamo a tempo mountain climbers vai 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 ti voglio carico ti voglio carico vai 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 stop ragazzi te lo facciamo un applauso con qualche problema abbiamo portato tutto a termine dai carichi ragazzi ci vediamo ciao